Il minimalismo mi ha cambiato la vita. Mi ha davvero rivoluzionato la vita. E lo sai che ci sono delle abitudini, delle cattive abitudini, che ho perso grazie al minimalismo? Vuoi scoprire quali sono? Continua a guardare questo video. Ciao, sono Roberta e bentornata su Io ricomincio da me, il programma dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parliamo tra l'altro di minimalismo. Il video di oggi è un video un po' particolare dove voglio raccontarti 5 abitudini, 5 cattive abitudini, o comunque diciamo così, abitudini non positive, che ho perso grazie al minimalismo. Ma prima di cominciare, mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella in modo da non perdere le notifiche dei miei prossimi video. E se invece mi stai ascoltando dal podcast, allora inserisci il podcast tra i tuoi preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo episodio ti sarà piaciuto. Sono ormai tre anni che sono diventata minimalista e mi sono resa, oh che due coglioni, 5 abitudini che ho perso. Sono ormai tre anni che sono diventata minimalista e pensandoci mi sono resa conto che ci sono 5 abitudini, 5 cattive abitudini che ho perso grazie al minimalismo. E volevo raccontarti quali sono queste abitudini perché magari potrebbero esserti utili se tu stai pensando di abbracciare il minimalismo e vuoi capire cosa potrebbe portare di più alla tua vita, o perché magari tu potresti avere delle altre abitudini che hai perso e nel caso mi raccomando scriverle nell'info box qui sotto perché sarò curiosissima di leggerle. Intanto volevo raccontarti di queste 5 abitudini che per fortuna sono sparite dalla mia vita grazie al minimalismo. La prima abitudine che ho perso grazie al minimalismo è quella di smettere di comprare cose solo perché sono un prezzo conveniente. Io sono una che è sempre stata attenta ai soldi e ha sempre voluto risparmiare il più che poteva e per questo motivo i saldi, le offerte e le promozioni erano qualcosa che mi tentava come il canto della sirena. Perché comunque quando vedi un prezzo più basso dici oddio finalmente posso avere quel determinato oggetto a un prezzo che è molto più basso di quello che è il suo prezzo regolare. Peccato che questo trucchetto psicologico faccia sì che spesso e volentieri le persone comprino cose che in realtà non gli servono, che non sono davvero utili, che non amano, che non porterà nessun valore alla loro vita e che oltretutto magari non utilizzeranno mai o andranno addirittura a buttare senza averle mai usate per niente o quasi per niente. Spesso quindi ero preda a questa voglia di comprare le cose solo perché il prezzo era qualcosa che davvero mi tentava. Magari andavo nei negozi, vedevo magliettine a 2-3 euro e dicevo beh per 3 euro perché non comprarla. Mi è capitato di comprare le stesse cose per mia figlia dicendo ma questo prezzo c'è questa cosa che è utilissima poi cresceva e non gliela mettevo più. Spesso e volentieri mi riempivo l'armadio di cose che non mi servivano e che in realtà non mi facevano particolarmente piacere ma erano a un prezzo così fantastico che non potevo esimermi dal comprarle. Bene, questa abitudine col minimalismo è sparita e non perché io non voglia più comprare niente, non abbia più bisogno di avere vestiti o abbia un armadio scarnissimo, assolutamente no, ma ho capito che non ha senso comprare le cose se sono in offerta, quando poi quelle cose non ti servono, non si soddisfano completamente perché saranno comunque dei soldi buttati. Molto meglio continuare a utilizzare quello che si ha e che è in buone condizioni e quando si fa un acquisto guardare comunque il prezzo e magari aspettare i saldi per poter risparmiare ancora ma comprare qualcosa che ti soddisfa pieno, che sai che ti piacerà e che sai che utilizzerai. In questo modo ogni euro speso sarà un euro davvero utilizzato nel migliore dei modi. La cucina che ho perso grazie al minimalismo è quella di continuare a riempire la casa di accessori che in realtà non mi servivano a niente. Avevo la cucina piena dei più strani accessori dal dividi uovo al taglia, come si chiama, quello per l'ananas e cose del genere, un sacco di accessori di cucina neanche fossi uno chef di Masterchef che in realtà non usavo mai, però sembravano un'idea fantastica e una cosa che mi avrebbe fatto sicuramente risparmiare un sacco di tempo. In realtà la verità è che se determinate cose non le volevo preparare prima, continuo a non volerle preparare oggi. Era un'idea che mi faceva gola perché mi faceva pensare che sarei cambiata in un approccio che per me in realtà non era importante perché io ci tengo a cucinare e a cucinare cose che mi facciano bene, ma non sono il genere di persona che ama fare delle grandi cene e cucinare le cose più improponibili perché preferisco spendere il mio tempo in altro modo e il fatto di comprare questi accessori faceva sì che io mi sentissi in realtà come una piccola chef. Ebbene, questo tipo di abitudine è sparita dalla mia vita, ormai ho capito che compro solo le cose che effettivamente sono utili e spesso e volentieri in realtà cerco di capire quali cose ho già che posso utilizzare in modo da avere il minimo possibile e anche il minor disordine possibile e quindi mi sono liberata di questa abitudine grazie al minimalismo. La terza abitudine che ho perso grazie al minimalismo è quella di passare giornate intere a riordinare i miei armadi o piuttosto che la cassettiera o la scarpiera. Prima avevo un sacco di cose, come ripeto, cose che avevo comprato, cose che mi erano state date e molte di queste non mi piacevano e quindi spendevo un sacco di tempo. Quando facevo il cambio armadio ci volevano due giorni e anche semplicemente nel sistemare le cose, metterle via, lavarle, continuavo a prendere, togliere, spostare, metti di qua, metti di là, metti in ordine, perché poi magari ero di fretta e cacciavo tutto dentro l'armadio, dentro il cassetto senza guardare e poi però guardando il casino che c'era dovevo mettere in ordine. Quindi spendevo un sacco di tempo incredibile a star dietro a queste cose che in realtà non mi davano grande soddisfazione e che non mettevo spesso e volentieri, perché alla fine continuavo a mettere più o meno sempre le stesse cose che mi piacevano di più. Bene, questa cosa è sparita dalla mia vita, è un'abitudine che non ho più, ormai il cambio armadio mi porta via pochissimo tempo e spero me ne porterà via sempre meno e soprattutto smetto di continuare a mettere in ordine perché ormai le cose che ho sono così poche e che sono facilmente tenute in ordine, semplicemente mettendoli nel modo giusto appena le utilizzo o le lavo e in questo modo ho risparmiato un sacco di tempo che posso in realtà dedicare a cose che mi danno molto più piacere ed è un'abitudine che ho potuto togliere dalla mia vita grazie al minimalismo. La quarta abitudine che ho perso grazie al minimalismo è quella di continuare a spendere il mio tempo in attività che in realtà non mi danno soddisfazione. Chi fosse andare in palestra perché pensavo che dovevo fare palestra piuttosto che uscire con i colleghi di lavoro con il quale in realtà non mi piaceva più di tanto stare, la realtà è che spesso e volentieri mi trovo a fare delle attività che non mi davano soddisfazione, che non volevo davvero fare semplicemente per non doverdi di no a determinate persone, perché mi sentivo in dovere di farlo, perché credevo che fosse un'attività che dovevo fare. Bene, questa abitudine l'ho persa col minimalismo perché mi ha aiutato a capire che il mio tempo è una delle cose più importanti che ho e che quindi è giusto che io lo spenda in quello che per me è davvero importante. Questo è qualcosa che può far pensare a una sorta di egoismo in molte persone, ma in realtà no, perché quando tu sei con quelle persone solo perché devi farlo, spesso e volentieri non porti neanche a loro nessun valore raggiunto e quindi non ha senso continuare a fare questa cosa. Molto meglio spendere il tuo tempo nelle cose che ti danno gioia e riuscire poi a dedicare del tempo di qualità alle persone che sono per te importanti senza essere stressata, senza essere in sofferenza, senza buttare via tempo in cose che non hanno nessun senso. La quinta abitudine che ho perso grazie al minimalismo è quella di sentirmi in dovere di giustificare le mie azioni. Spesso e volentieri io prima mi sentivo in dovere di giustificare le mie azioni. Se facevo una determinata cosa dovevo giustificare, anche prima che le persone mi chiedessero perché fai questa cosa. Partivo già con l'idea che ogni cosa che facevo doveva essere giustificata, perché avevo un po' diciamo così la paura di quello che era il giudizio degli altri. Grazie al minimalismo questa cosa è sparita, cioè non è che non mi importi proprio più del giudizio degli altri, perché naturalmente come tutti gli esseri umani il giudizio altrui un pochino influenza la mia vita, ma ho capito quando mi capitano questi momenti in cui mi faccio prendere dal lupo dell'oddio cosa penseranno, che in realtà non è necessario che io mi debba giustificare e non è necessario avere l'approvazione delle altre persone. Posso semplicemente portare avanti la mia idea e il mio modo di fare e di essere senza problemi. Bene, queste erano le 5 abitudini che ho perso grazie al minimalismo. Come vedi sono 5 abitudini che in realtà hanno migliorato tantissimo la mia vita e secondo me possono migliorare tantissimo la tua vita, quindi ti invito assolutamente ad abbracciare il minimalismo nella misura in cui è per te più consona. Se tu hai altre abitudini che hai perso grazie al minimalismo e vuoi parlarne, vuoi condividere, mi raccomando scrivoli nell'info box qui sotto, sono felicissima di leggere e sono sicura che saranno utilissime a chiunque altro vedrà nella community questo video. Se vi è piaciuto mi raccomando metti un like per sostenere il canale e eventualmente inoltre a chi pensi possa trovarlo utile. Se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella in modo da ricevere notifiche dei miei prossimi video. Ciao e alla prossima!